Allora, carissimi amici, cominciamo finalmente questa diretta travagliata di questa sera. Parliamo questa sera delle note della Chiesa, la Chiesa 1 Santa Cattolica Apostolica. Stavo prima accennando nella problematica introduzione che parleremo appunto di queste note che sono molto importanti da un punto di vista formativo, perché la Chiesa 1, come la Chiesa 1, ma i cristiani ce stanno, i cattolici, gli ortodossi, i protestanti, le Chiese d'Oriente, la Chiesa d'Occidente, la Chiesa è santa, hai visto com'è santa? Guarda, guardiamoci un pochino in giro, guardiamo quanti santi che ci stanno in giro, no? Eccetera, eccetera, no? La Chiesa è cattolica, sì, è cattolica nel senso che, vedremo in senso, sia universale oppure il cattolicesimo nel senso della custodia della vera dottrina. Ma adesso siamo entrati in una fase anche delicata, che si capisce più manco bene se la dottrina ce la non c'è, quindi sarà interessante approfondire queste note. Parto subito con la lettura, perché le registrazioni non ne risentono, ma i cari figliolini e figlioline che ascoltano la diretta abbiamo già perso un quarto d'ora, quindi 20 minuti, anzi, per tutti i problemi pregressi. Quindi parto con la lettura. Siamo al paragrafo 111. Note caratteristiche della Chiesa. Si spieghino ai fedeli le proprietà di questa Chiesa, dalle quali si rileva quanto sia grande il beneficio di Dio verso coloro che in essa nascono e sono educati. Unità della Chiesa. La prima proprietà ricordata nel simbolo dei padri niceni è l'unità. Sta scritto, una è la mia colomba, una è la mia bella. Una così grande moltitudine di uomini diffusa per ogni dove è detta, per i motivi elencati dall'Apostolo agli Efesini, è detta una per i motivi elencati dall'Apostolo agli Efesini. Uno è il Signore, uno la fede, uno il battesimo. Uno è anche il suo capo e moderatore. Quello visibile è Cristo, nostro Signore, che è l'Eterno Padre, ha costituito capo di tutta la Chiesa, suo mistico corpo. E quello visibile che siede sulla cattedra di Roma, quale successore legittimo di Pietro, principe degli Apostoli. Unanime fu il consenso dei padri nel ritenere necessario questo capo visibile per costituire e conservare l'unità della Chiesa. San Girolamo lo vide chiaramente e ne scrisse in questi termini contro Gioviniano. Uno solo viene letto affinché, costituito il capo, sia tolta ogni occasione di scisma. E Abbaso taccia l'invidia, receda l'ambizione della romana dignità. Io parlo con il successore del pescatore, con il discepolo della croce. Io non seguo altri che Cristo come primo duce, ma mi unisco in comunione con la tua beatitudine, cioè con la cattedra di Pietro, sapendo che su questa pietra è stata edificata la Chiesa. Chiunque mangerà l'agnello fuori di questa casa è un estraneo. Chiunque non starà nell'arca di Noè, perirà nelle acque del diluvio. Molto tempo prima avevano detto la stessa cosa il Reneo Cipriano, il quale ultimo, parlando dell'unità della Chiesa, scrive Il Signore dice a Pietro, io o Pietro dico a te che tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa. Edifica la Chiesa sopra uno solo e sebbene attribuisca a tutti gli apostoli dopo la risurrezione uguale potestà e dica come il Padre ha mandato me, così io mando voi e ricevete lo Spirito Santo, pure, volendo far manifesta l'unità dispose con la sua autorità che l'origine di detta unità derivasse da uno solo. Ottato di Midevi scrive Non ti può scurare, scusate, l'ignoranza, sapendo bene che in Roma a Pietro per primo fu data la cattedra episcopale sulla quale si erette il capo di tutti gli apostoli, affinché tutti conservassero in lui solo l'unità della sede e i singoli apostoli non estollessero ciascuna la propria. Perciò è scismatico e prevaricatore chi contro quest'unica cattedra ne colloca un'altra. Anche San Basilio scrive Pietro è stato collocato nel fondamento, egli aveva detto tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente e in cambio aveva udito di dover essere la pietra, non però nella stessa maniera di Cristo. Cristo è la pietra veramente immobile. Pietro è immobile per virtù di quella Gesù elargisce agli altri le sue dignità, è sacerdote per sacerdoti è pietra e costituisce la pietra, così elargisce ai suoi servi le cose sue. Infine Sant'Ambrogio afferma Pietro è anteposto a tutti perché solo fra tutti confessa la divinità di Cristo. Se uno obietta che la Chiesa paga dell'unico capo e sposo Gesù Cristo non ne debba cercare un altro, la risposta è pronta. Gesù Cristo è non solo l'autore ma ancora l'interiore ministro dei singoli sacramenti perché è lui che battezza e assolve eppure ha istituito degli uomini come ministri esteriori dei sacramenti. perciò ha preposto alla Chiesa che egli regge con il suo intimo soffio un uomo quale vicario e ministro della sua potestà. Una Chiesa visibile ha bisogno di un capo visibile quindi il nostro Salvatore dando a Pietro con solenni parole l'incarico di pascolare le sue pecore lo ha costituito capo e pastore della grande famiglia dei fedeli nel senso che il suo successore avesse la medesima potestà di reggere e governare tutta la Chiesa. Del resto, scrive l'Apostolo ai Corinzi uno e identico è lo spirito che infonde la grazia ai fedeli come l'anima dà vita alle membra del corpo e invitando quelli di Efeso a mantenere questa unità scrive siate solleciti nel conservare l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace un solo corpo e un solo spirito come il corpo umano si compone di molte membra tutte avviate da una sola anima che dà vista agli occhi udito alle orecchie e agli altri sensi delle rispettive virtù così il corpo mistico di Cristo la Chiesa si compone di molti fedeli unica è anche la speranza come Ivi l'Apostolo testifica alla quale siamo stati chiamati poiché tutti speriamo la medesima cosa la vita eterna e beata una infine la fede che tutti devono ricevere e professare non ci siano scismi tra voi dice l'Apostolo e uno pure il battesimo che è il sacramento della fede cristiana allora il discorso è un pochino articolato qui ovviamente avremmo fatto caso qui c'è in questo articolo c'è evidentemente ci sono delle accentuazioni che dipendono dal contesto storico culturale in cui il catechismo romano è stato emanato che è evidentemente il contesto del concilio di Trento che è stata una risposta abbastanza energica alla grande crisi innescata dal protestantesimo e uno dei punti cardini di Martín Lutero era la ribellione proprio la non solo la ribellione la ribellione furiosa proprio la negazione quindi la come dire la sfrontatezza è nell'attaccare la sede romana abbiamo tutti questo qui i protestanti non sono soltanto come gli ortodossi separati da Roma nel senso che non riconoscono l'autorità primaziale del romano pontefice no loro sono anche lontani da noi per tutta quanto una serie di eresie di errori gravi sia da un punto di vista di fede che da un punto di vista di morale e non soltanto come dire cioè sono distaccati dal Papa perché lo considerano perché come gli ortodossi lo considerano un primus inter pares cioè gli ortodossi pensano che il Papa sia come il Presidente del Consiglio in Italia o il Presidente della Conferenza Episcopale quindi sì c'è un ruolo eminente di onore però ma non un primato effettivo di giurisdizione mentre invece secondo la volontà di Nostro Signore Gesù Cristo il romano pontefice è il capo della Chiesa cioè autorità come si dice in Magistero piena suprema immediata e universale su tutta la Chiesa su ogni singolo battezzato su tutti i Vescovi sui Cardinali e l'unica autorità superiore a lui a cui risponde è è Domine Dio ok quindi il contesto cioè l'unità della Chiesa però non si fonda soltanto sul fatto che uno è il rappresentante visibile di Cristo sulla Terra ma appunto numero uno uno è il Signore cioè uno è Gesù Cristo uno è il corpo mistico di Cristo una la fede uno il battesimo ok quindi c'è un fondamento multiplo però avete visto che cioè su questi fondamenti il Signore si ne ha parlato subito però passa subito è il capo l'unico è il capo invisibile però ci deve essere anche un capo visibile qui chiaramente questa profonda accentuazione ripeto dipende dal contesto storico culturale se si apre per esempio il Catechismo Nuovo non cioè è ovvio che si parla anche del Papa come espressione suprema ecco e visibile dell'unità della Chiesa ma non non con questa diciamo sproporzione e con questi toni diciamo così così enfatizzati attenzione che l'unità della Chiesa questo mi permetto di chiosare un po' non può essere cioè non è che si perde se qualcuno si separa attraverso lo scisma o attraverso l'eresia dall'unica Chiesa di Cristo questa non perde la caratteristica dell'unità perché l'unità non è un'unità da concepire come se la Chiesa è una vuol dire che tutti i cristiani devono essere uniti questa si chiama unità fenomenologica o sociologica l'unità della Chiesa si fonda su ragioni teologiche e soprannaturali appunto uno è il Signore quindi uno è il fondatore uno colui che lo rappresenta sulla terra uno il battesimo in cui si entra il sacramento in cui si entra a fare parte della Chiesa e una è anche la fede divina e cattolica una cosa importante che bisogna sottolineare adesso questa non è la sede opportuna è vedete cosa dice San Girolamo per esempio io non seguo altri che Cristo come primo duce ma unisco in comunione con la tua beatitudine cioè con la cattedra di Pietro sapendo che su questa pietra è stata edificata la Chiesa ok quindi tutti Romano Pontefice incluso sono soggetti a Cristo sono i servitori di Cristo e sono tutti per esempio perché Simone è diventato Pietro ce l'ha detto Ottato di Milevi citato in questo in questo in questo in questo passaggio no perché perché ha riconosciuto la divinità di Cristo il primo il racconto di Matteo 16 è questo vuoi che dire che io sia Pietro Simone risponde Simone si chiamava ancora Beato te Simone figlio di Giona io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa ok quindi il Romano Pontefice esiste oltre che come segno vivente dell'unità della Chiesa o del fatto che la Chiesa è una in funzione di colui che rappresenta è impensabile una cosa cioè il Papa è proprio per definizione il vicario di Cristo non potrebbe esserlo se non fosse il vicario di Cristo o Dio non voglia se non volesse esserlo è impossibile perché proprio in questo suo ruolo è come dire iscritta la sua ragione di essere il Papa è colui che mostra al mondo parla al mondo dice al mondo Gesù Cristo è Dio ed è l'unico salvatore dell'uomo e per entrare in contatto con lui devi entrare nella Chiesa da lui fondata di cui io sono il capo perché lo è ok e fuori della guerra non c'è salvezza fine della trasmissione questo è l'ufficio Petrino detto proprio in due parole no andiamo adesso a vedere la questione della santità della Chiesa la seconda nota chiede la Chiesa una santa cattolica e apostolica andiamo a vedere in che senso la Chiesa è santa la seconda proprietà della Chiesa è la santità come insegna il principe degli apostoli cioè San Pietro ancora dicendo ma voi siete la stirperetta la gente santa è detta santa uno perché consacrata e dedicata a Dio come è consuetudine chiamare sante tutte le cose di questo genere anche materiali purché ordinate e destinate al culto divino come per esempio nell'antica legge i vasi sacri le vesti gli altari e anche i primogeniti che venivano dedicati all'altissimo né deve recare meraviglia che la Chiesa sia detta santa sebbene contenga molti peccatori giacché i fedeli si chiamano santi in quanto sono divenuti popolo di Dio e mediante la fede e il battesimo si sono consacrati a Cristo anche se poi peccano e non mantengono le promesse fatte allo stesso modo che esercita un'arte è sempre chiamato artefice anche se non osserva i precetti dell'arte sua perciò San Paolo chiama i fedeli di Corinto santificati e santi sebbene come nella prima lettera di Corinto si vede benissimo sia noto che ve ne fossero taluni che egli acerbamente rimprovera come carnali e peggio si vede dal capitolo terzo in poi quindi faccio un pit stop prima di leggere il resto perché sono altre motivazioni che supportano la nota della santità però questa è la più importante allora questo è un concetto fondamentale i fedeli si chiamano santi perché semplicemente perché sono battezzati la chiesa è santa primo perché la fede che trasmette è santa si chiama la fede divina e cattolica se tu entri in contatto con la fede divina e cattolica hai tutto ciò che è necessario per santificarti primo secondo una volta che tu sei battezzato tu sei consacrato a Dio perché con il battesimo per chi non lo ricordasse o chi non lo sapesse noi veniamo unti con il sacro crisma tutti i battezzati questo lo devono sapere sono consacrati a Dio e una cosa consacrata è santa per il fatto di essere consacrata da un punto di vista oggettivo faccio un esempio un sacerdote appena diventa sacerdote ha le mani consacrate e quelle mani possono consacrare perché anche un sacerdote peccatore celebra veri e validi sacramenti perché l'essere consacrato è un fatto oggettivo che prescinde dalle qualità soggettive del consacrato quindi un battezzato può diventare peccatore certo perché c'è la libertà ma il fatto che lui sia diventato peccatore non cancella il sacro carattere del battesimo per mezzo per mezzo per mezzo del quale anche se non diventa santo per l'esercizio delle virtù è santo in quanto consacrato è chiaro questo cioè io adesso magari poi durante chi può fare le domande faccia qualche domanda è chiaro questo concetto questo concetto è fondamentale questo qui perché con questo tutti quanti gli argomenti di quelli che dicono ah ma la chiesa quindi non deve destare meraviglia quindi che la chiesa sia detta santa sebbene contenga molti peccatori perché i piani sono differenziati per sapere per far capire questa cosa bisogna parlare di un gravissimo e contemporaneo peccato contro lo spirito santo anzi più grave in assoluto che si possa commettere che è il cosiddetto sbattezzo promosso dall'unione degli ati e degli agnostici e razionalisti ci si vanno pure con tanto di documentazione ufficiale di intervento delle curie di minacce di procedimenti legali se tu non gli dai retta a fare questa cosa ma lo sbattezzo anche se chiederlo ed esigerlo è un peccato mortale gravissimo anzi è un peccato contro lo spirito santo e io non lo so quale tipo di pentimento e di penitenza si debba fare a un disgraziato che faccia una cosa di questo genere se ci dovesse ripensare per ottenere il perdono di Dio questo veramente bisognerebbe fare un colloquio con la Santissima Trinità io mi troverei molto in difficoltà se dovessi sentire un qualcuno che viene a dire mi sono pentito di questa cosa e cosa devo fare mi troverei molto in difficoltà per la gravità inaudita di questo gesto ma questo gesto non esiste l'unica cosa che si può fatti fare è annotare sul registro che questo non vuole avere più niente a che fare con la Chiesa Cattolica ma il battesimo non lo toglie nessuno i dannati se un battezzato va all'inferno i diavoli si divertiranno ancora di più perché si sono portati un santo all'inferno un santo in quanto consagrato sono i bocconcini più predibati non parliamo poi di un prete o di un vescovo se dovesse andare all'inferno capite? il battesimo è una cosa grossa ora chiaro questo qui quindi è meglio dire ah si sta nei peccatori quindi non è santa no il santo da un punto di vista soggettivo manifesta la santità oggettiva della Chiesa la manifesta ma non la esaurisce allora ancora santa è la Chiesa secondo motivo perché è congiunta come corpo al suo Santissimo Capo che è Cristo nostro Signore fonte di ogni santità dal quale ci vengono i carismi dello Spirito Santo e le ricchezze della Divina Bontà molto efficacemente Sant'Agostino interpretando quelle parole del profeta proteggi l'anima mia perché sono santo dice eh osi pure il corpo mistico di Cristo osi come un solo uomo gridare dagli estremi confini della terra e dire con il suo capo e sotto il suo capo io sono santo perché ha ricevuto la grazia di santità la grazia del battesimo e della revisione dei peccati se uno apre le epistole del Nuovo Testamento vedrà ci ho già citato San Paolo ma non solo San Paolo quando si salutavano i cristiani dice saluto ai santi per questi motivi la chiesa è il mistico corpo di Cristo punto e dopo poco aggiunge se è vero che tutti i cristiani fedeli battezzati in Cristo hanno rivestito Cristo come dice l'aposto tutti voi che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo se è vero che sono divenuti in membra del suo corpo eppure dicono di non essere santi sentite allora fanno ingiuria al capo l'equimembra sono sante e quindi per questa santità oggettiva che non gliela può togliere nessuno sono a speciale titolo chiamati a coltivare la santità la santità soggettiva che dipende ovviamente da cosa dall'uso degli strumenti di santificazione che ci sono nella chiesa infine si aggiunga eccolo qui un altro punto fondamentale che solo la chiesa possiede il culto legittimo del sacrificio e l'uso salutare dei sacramenti noi abbiamo la messa e i sacramenti che cosa sono quelli? sono cose sante per antonomasia non c'è niente di più santo di un sacramento e sono strumenti di santificazione quindi la chiesa è santa perché? perché ha ricevuto in dono dal suo capo gli strumenti per santificare quindi chi vuole diventare santo da un punto di vista soggettivo deve entrare nella chiesa cattolica per forza non c'è possibilità perché i sette sacramenti perfettamente vissuti e celebrati si trovano soltanto nella chiesa cattolica per essi dice il catechismo come per efficaci strumenti della grazia divina Dio produce la vera santità vedete di guisa tale che i veramente santi non possono essere fuori di questa chiesa ti pare poco? quindi nella chiesa non tutti sono santi vero ma solo nella chiesa puoi diventare santo cioè se nella chiesa non tutti sono santi i santi però si trovano solo nella chiesa siamo stati chiaro? questo bisogna ricordarlo questo qui tanto è vero che un argomento come dire da uomo della strada per per chi comincia a obiettare che la chiesa non è santa perché sono i peccatori ci sono i peccatori ma nella chiesa sono anche uno stuolo innumerevole di martiri e di santi studia e lo vedrai quanti sono i santi canonizzati dalla chiesa cattolica secondo voi? quanti sono i martiri? le sante vergini i santi genitori sono tanti giusto? quindi è chiara è chiara dunque che la chiesa è santa è santa perché il corpo di Cristo dal cui viene santificata bellissimo e dal cui sangue viene lavata quindi il sangue di Cristo ci lava nel battesimo una volta ricevuto il battesimo i sacramenti ci santificano ovviamente i sacramenti d'accanto a loro funzionano benissimo però perché producano i loro effetti santificanti i sacramenti devono essere ricevuti con le debite disposizioni i sacramenti hanno delle regole adesso non vieto a parlare di queste cose quindi facciamo consigli per gli acquisti sono sia le catechesi sui sette sacramenti sia per chi non ha voglia di sentirsi lunghi cicli di catechesi c'è un libretto che ho fatto da poco pubblicato da poco che si ha appunto i sette sacramenti dove uno va a vedere in sintesi mi ricordo si arriva neanche circa un centinaio di patina quindi non è un libro troppo impegnativo poi è scritto proprio con stile divulgativo quindi proprio per aiutare le persone e si capisce un sacramento di santifica a condizione perché però tu lo ricevi con le giuste regole la confessione di santifica se ti confessi bene validamente la santa messa di santifica se ci partecipi regolarmente almeno la domenica in un certo modo la comunione di santifica se la fai in grazia la cresima di santifica se la ricevi in grazia se ti sei preparato a riceverla eccetera 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 no? poi terzo aspetto la cattolicità della chiesa terza nota terza proprietà della chiesa è il dirsi cattolica ossia universale epiteto che le conviene a buon diritto perché come attesta Sant'Agostino dall'Oriente a Occidente si diffonde con lo splendore di un'unica fede quindi questa è una cosa importantissima per noi oggi la storia della salvezza l'antica alleanza si era compiuta in un popolo ben determinato il popolo di Israele ed era legata a quel popolo certo poi nel corso della storia cominciarono a rendere possibile l'aggregazione al popolo di Israele attraverso l'istituto dell'essere un proselite no? il proselitismo però in ogni caso restava la religione di un popolo la chiesa non appartiene a un popolo la chiesa non è degli italiani anche se la chiesa c'è la sua sede primaziale a Roma ma non è degli italiani non è degli ebrei non è dei greci non è degli inglesi la chiesa è di tutti raduna popoli di ogni stirpe razza e nazione come sentiremo dire tra poco essa non è come le nazioni civile o le conventicole eretiche ristrette nei confini di un regno o nell'ambito di una razza ma abbraccia nel seno della sua carità tutti gli uomini barbari usciti schiavi o liberi maschi o femmine poiché sta scritto Apocalisse 5 9 ci hai ricomprati per Dio con il tuo sangue da tutte le tribù lingua lingua e popoli e nazione ci hai fatti un regno per il nostro Dio questo si leggerà in lettera agli ebrei Davide dice della chiesa chiedimi e ti darà retaggi i popoli in possesso le più lontane regioni e altrove Pororahab e Babilonia tra coloro che mi hanno conosciuto e ogni uomo è nato in esse del resto tutti i fedeli da Adamo a oggi e da oggi alla fine del mondo i quali professano la vera fede appartengono alla medesima chiesa che è stata edificata sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti tutti questi sono stati costituiti e fondati su quella pietra angolare che è Cristo il quale delle due cose ne ha fatta una e ha annunciato la pace è vicino e è lontano si dice universale anche perché quanti vogliono conseguire la salute eterna devono aderire alla chiesa non diversamente da coloro che per non perdere nel diluvio entrarono nell'arca e qui si adombra anche se questo concetto si sarebbe sviluppato nel corso degli anni perché oggi con cattolica si designano due cose sia l'universalità sia anche il fatto che la chiesa romana si dice cattolica perché è la vera chiesa di Cristo che custodisce la pienezza della verità qui adombrato se vuoi avere la salvezza devi entrare nell'arca che è la chiesa non diversamente da coloro che per essere scampati per scappare dal diluvio universale dovessero entrare nell'arca spero tutto chiaro infine l'apostolicità della chiesa e qui si legge questa pertanto è la norma più sicura per distinguere la vera chiesa dalla falsa ma la verità della chiesa si può riconoscere anche dall'origine per una grazia evidente che deriva dagli apostoli la verità della sua dottrina non è recente né nata ora ma trasmessa un tempo dagli apostoli e disseminata poi per tutto il mondo segue da ciò che nessuno deve dubitare che le empie teorie degli eretici contrarie alla dottrina della chiesa predicata dal tempo degli apostoli fino ad oggi si allontanano dalla fede della vera chiesa attenzione a questi termini la fede della vera chiesa perciò affinché tutti capissero quale fosse la chiesa cattolica per divina ispirazione i padri aggiunsero nel simbolo l'epitolo di apostolica infatti lo spirito santo che presiede alla chiesa non la governa con altra sorta di ministri all'infuori di quelli apostolici questo spirito fu prima donato agli apostoli e poi è rimasto nella chiesa grazie all'infinita benignità di dio ma come soltanto questa chiesa non può errare nell'insegnare la disciplina della fede dei costumi perché governate dallo spirito santo così tutte le altre che si arrogano in nome di chiese essendo guidate dallo spirito del demonio devono necessariamente cadere perniciosissimi errori di fede e di costumi quindi con questa nota comprendiamo che la chiesa custodisce e deve custodire la fede trasmessa dagli apostoli come si legge benissimo nel canone della chiesa di Roma in comunione e con tutti coloro che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli apostoli quindi la fede di oggi è la stessa dei dodici tant'è vero che sapete che la fede da sempre è stata sintetizzata nei cosiddetti simboli e sapete che il simbolo apostolico che è il credo in forma breve contiene dodici articoli secondo la tradizione questi dodici articoli li hanno formulati uno per uno gli apostoli prima di dividersi e andare a predicare il Vangelo fino a estremico fin dalla terra come gli ha detto Gesù per portarsi dice cosa dobbiamo dire l'ultima è la stessa cosa quindi questo è la fede certamente poi spieghiamo poi articoliamo credo in Dio Padre Onnipotente che è autore del cielo e della terra partiamo della creazione credo in Gesù Cristo sull'unico figlio nostro Signore diremo che Gesù Cristo è il futuro di Dio il quale fu concepito di Spirito Santo partiremo dell'incarnazione partiremo di Ponzio Virato della passione della morte risuscitato da morte eccetera però la fede è una ed è di origine apostolica e la vera chiesa si trova lì dove è custodita protetta e alimentata tra le altre cose la vera fede trasmessa dagli apostoli ok? ecco con questo possiamo fermarci perché oggi è una puntata un pochino più più breve grazie a Dio ecco la relativa brevità inferiore rispetto al solito di questa nostra conversazione ha compensato per chi ha seguito la diretta l'estremo ritardo con cui la diretta è iniziata ecco quindi a questo punto io direi che possiamo fermarci Dio vi benedica la Santa Vergine di Boteca laurento Jesus e Maria cari amici se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un bel like ad iscrivermi al mio canale YouTube ad attivare la campanella così sarete avvertiti in dei nuovi video che vengono caricati e se credete anche a condividere questo video questo ovviamente se ritenete quello che avete ascoltato utile al bene delle vostre anime perché attraverso queste semplicissime e assolutamente innocue operazioni che a voi non costano nulla però sappiate che potreste contribuire al bene di qualche anima perché attraverso queste operazioni è più facile che questi contenuti vengano rielaborati anche dagli algoritmi di YouTube proposti e se poi li condividete anche direttamente comunicati quindi sono cose che a voi non costano nulla però sappiate che è una forma di partecipazione attiva al mio apostolato per la gloria di Dio e per il bene delle anime Dio vi benedica a presto